Anticipazioni Endless Love, quello che vedrai in queste puntate, ti lascerà senza parole. Nella puntata di sabato, Kemal, che finalmente può abbracciare Deniz confermando l'impressione avuta fin dall'inizio di esserne il padre, dice a Nihann di voler trovare una soluzione per tutti e tre. Nihann lo implora di attendere quel poco che basta affinché Emir sia impossibilitato a fargli del male, cosa che accadrebbe se portasse via quella che sulla carta è figlia di Emir. Kemal e Nihann discutono. Lui, determinato a unire definitivamente il loro destino, propone a Nihann una fuga o una convivenza. La donna si oppone e lo prega di avere pazienza. Ha il terrore che Emir si vendichi facendo del male a Deniz. Prima di continuare, se vorresti il continuo della storia, scrivi sì nei commenti. Riprendiamo. Un confronto tra Zera e Zehir porta a una rivelazione sul passato della coppia. Zera fu travolta da un'auto e perse il bambino mentre correva ad avvertire Zehir che suo padre l'aveva denunciato. La donna si assume la responsabilità di avere attraversato la strada senza fare attenzione, ma accusa Zehir di averla portata lui su quella strada. La determinazione di Zeynep a cambiare vita viene messa a dura prova da un incontro con Emir, sferzante e seduttivo. Azu passa all'azione e mette in atto il suo progetto di sbarazzarsi della rivale, incaricando un suo scagnozzo di manomettere i freni dell'auto di Nihann. Nihann, dopo essere stata rianimata in ambulanza, arriva in ospedale in gravi condizioni. Durante l'intervento, i medici si accorgono che ha un'emorragia interna e ha urgente bisogno di sangue, ma le scorte dell'ospedale non sono sufficienti. Così chiedono ai familiari di cercare dei donatori compatibili. Kemal ricorda che Zeynep ha lo stesso gruppo sanguigno di Nihann, così va immediatamente a prenderla. Emir pretende che Kemal non si avvicini alla sala operatoria e chiede alla vigilanza dell'ospedale di impedirgli L-quote accesso. Dotemir sospetta che, prima dell'incidente, Nihann fosse con Kemal, ma Azu decide di proteggere il marito e fornirgli un alibi. Anche Leila e Ayan si adattano a questa versione dei fatti, per evitare il coinvolgimento del suo ideere. Lui, nel frattempo, si sente nervoso per quello che è successo dato che sente di doversene prendere la responsabilità, ma tutti gli chiedono di mantenere la calma e non rivelare a Emir di essere il vero padre di Deniz proprio in questo momento. Tufan riesce a portare in ospedale alcuni dipendenti pronti a donare il proprio sangue a Nihann, ma per fortuna Qi ha già pensato Zeynep essendo compatibile con la Setsin. Mentre Emir si mostra estremamente grato, la sorella di Kemal precisa di averlo fatto solo per amore del fratello. Nel frattempo, Tufan inizia ad indagare sull'incidente e scopre che Azu ha mentito su Kemal, dato che la sera prima non erano insieme. Azu, infatti, è uscita a cercare suo marito e l'ha trovato proprio in compagnia di Nihann. Temendo che Emir possa scoprire che è stata lei a far manomettere l'automobile di Nihann, Azu prega Tufan di non rivelare le sue scoperte. Nel frattempo, la Setsin supera con successo l'intervento e viene portata in terapia intensiva, ma Kemal non può raggiungerla nonostante non si muova dall'ospedale per due giorni interi. Quando Nihann è fuori pericolo e viene spostata in reparto, grazie all'aiuto di Zeir e Vildan, Kemal riesce finalmente nell'intento di entrare nella sua camera per rivederla. Kemal che riesce ad intrufolarsi nella camera d'ospedale di Nihann, fingendosi un operatore sanitario, proprio quando la Setsin riapre gli occhi. L'incontro, tuttavia, non è dei più romantici dato che Nihann accusa il soidere di averle portato via la figlia e gli chiede di andarsene. Se vorresti il continuo della storia, scrivi sì nei commenti.